Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. In A1 in direzione Bologna chiusura i mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per la volita San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Per la viabilità cittadina tra Firenze e Scandici è chiusa per il crollo di un muro via delle Magnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Infine ricordiamo l'obbligo in vigore fino al 15 aprile di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per il proprio mezzo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!